Buongiorno a tutti e bentornati su questo canale, siamo quasi 115.000 iscritti, grazie, continuate ad iscrivervi, questo è e resterà sempre uno spazio libero. Papa Francesco, umanità in pericolo, umanità in pericolo. L'umanità in pericolo, dice il Papa, l'umanità in pericolo è lottare per la pace, utilizza questo verbo, lottare, il Papa invita i giovani a lottare per la pace. Che significa lottare per la pace? Tentare di trovare soluzioni diplomatiche. L'obiettivo è la pace, non la sconfitta militare della Russia, perlomeno quello che penso io. Cosa sta avvenendo oggi? Sta avvenendo quello che tanti si immaginavano appunto che sarebbe accaduto. Si chiama escalation. Condanniamo l'escalation? Sì. Condanniamo il gesto criminale di bombardare Kiev? Sì. Ora che l'abbiamo condannato, come sempre la solita storia, chi ha invaso e chi è stato invaso, siamo tutti d'accordo. Cosa abbiamo risolto? Dove vogliamo andare? Qual è l'unica strategia, a parte condannare, dei politici europei? E assistiamo ad una distanza siderale tra la saggezza delle dichiarazioni del Papa e di pochi altri e le dichiarazioni folli di gran parte, soprattutto dei politici europei. Oggi sono i più folli, sono i politici europei. Anche gli americani stanno lanciando qualche segnale a Zelensky. Anche gli americani stanno, come dire, dimostrando un po' più di saggezza. Persino gli americani, coloro che hanno spinto per le sanzioni, non per ottenere subito la pace. Guardate, guardate i risultati, guardate i risultati dopo otto mesi. Era dal 26, se non sbaglio, giugno, che non c'erano stati bombardamenti su Kiev. E oggi ci stanno. E la guerra fa schifo. A me stupisce lo stupore di qualcuno. Prima un ragazzo mi ha scritto su Facebook, mi ha taggato. Hai visto che è successo? E adesso che cosa dici di Putin? Che è un atto criminale? Sì. Ora che l'ho detto, e l'ho detto in ogni modo, che cosa abbiamo risolto? Che cosa intendiamo fare? Cosa intende fare l'Europa, a parte condannare? Perché il presidente del Parlamento europeo, Roberta Mezzola, ha appena dichiarato nauseante quello che accade a Kiev. D'accordo. E aggiunge, l'Ucraina vincerà. Saranno chiamati i russi a risponderne, l'Ucraina vincerà. Cosa significa l'Ucraina vincerà? Che la Russia perderà. Ergo non si cerca la pace, non si spinge per un negoziato, non si cercano soluzioni diplomatiche, non si utilizzano le parole distensive, diciamo anche capaci di essere cinicamente utilizzati dai russi con la loro pubblica opinione per dimostrare magari un successo che non è reale. Ma chi se ne frega dell'orgoglio? Qui, come ha detto il Papa, c'è l'umanità in pericolo. Ci sono morti su morti. Ci rendiamo conto che cosa significa escalation? Ci rendiamo conto cosa significa cercare la sconfitta militare della Russia? Ci rendiamo conto che questo potrebbe significare mesi e mesi di guerra, morti tra i civili, morti tra i soldati, muoiono anche i soldati, sono ragazzi anche i soldati ucraini e russi mandati al fronte dalla Russia e ovviamente che rispondono con la controoffensiva. Perché io qui noto che ci sono gli stessi che hanno esultato per la controoffensiva ucraina, nonostante abbia causato la morte di migliaia e migliaia di soldati ucraini di vent'anni, o che hanno esultato, avete visto, è caduto il ponte sulla Crimea, l'abbiamo buttato giù, l'abbiamo buttato giù. Chi l'ha buttato giù? Noi l'abbiamo buttato. Quindi siamo in guerra. Sono gli stessi che ora si scandalizzano. Va bene indignarsi, ma non è accettabile scandalizzarsi per i raid russi criminali su Kiev. Perché questa è la guerra e tentare di risolvere le controversie internazionali con la guerra, oltre ad essere criminale come gesto, è anche anticostituzionale. Ci rendiamo conto che quello che sta accadendo è ciò che in molti, molti, io senz'altro ma tanti altri, abbiamo detto per mesi che sarebbe accaduto e oggi qualcuno si scandalizza. Andiamo avanti su questa strada. Roberta Mezzola dice armiamo più ucraini, mandiamo più armi. Siccome i russi aumentano la potenza di fuoco noi mandiamo ancora più armi. Possibile che dopo otto mesi non vi sia un politico? Ma io mi meraviglio della Meloni. Senz'altro. La Meloni ha fatto una campagna elettorale in cui ha sempre parlato di filoatlantismo, armi a Kiev, sostegno a Zelensky e compagnia cantante. Ok, è altrettanto vero che alcuni cittadini, molti direi, che hanno votato legittimamente la Meloni, si aspettavano successivamente, dopo la campagna elettorale, una discontinuità. Invece cosa intende fare la Meloni? Fare il copia e incolla dei comunicati di Draghi, di Lette e di Maio? Questo è il cambiamento? Questo è il nuovo al governo, la coerenza? Fare un copia e incolla e adottare le stesse identiche politiche fino alla sconfitta militare della Russia. Nonostante questa potrebbe prolungare per mesi, forse anni, la guerra, aumentare il numero di morti civili. Gli ucraini che si sentono ucraini, gli ucraini che si sentono russi, perché poi questo è il problema di fondo, che nessuno ha il coraggio di affrontare. In Donbass ci sono cittadini ucraini che non si sentono ucraini ma si sentono russi. Possibile che nessuno stia provando a pronunciare una parola di distensione dopo le condanne, dopo l'indignazione, ma dopo l'indignazione invece vengono aggiunte parole l'Ucraina vincerà, le stesse che di sei mesi fa la von der Leyen. L'obiettivo dunque è la sconfitta militare della Russia. Se questo appunto si mette in conto l'escalation, la si accetta per ragioni strategiche e geopolitiche, tra l'altro neppure vanno a vantaggio dell'Europa, vanno a vantaggio degli americani, ma evidentemente ci sono dei vassalli americani nei governi europei, si mette in conto migliaia di morti civili, rifugiati, crisi economica, sirianizzazione dell'Ucraina, bombardamenti su bombardamenti, escalation. Qua qualcuno, sono mesi, che dice occhio che i russi potrebbero aumentare la potenza di fuoco. Questo che cosa significa giustificare ancora a volte? Stiamo ancora a questo punto? Stiamo ancora a questo punto? Significa comprendere cosa possa essere e in cosa possa trasformarsi una guerra che mette parole del Papa in pericolo l'umanità. Se vi è qualcosa che mette in pericolo l'umanità, ma non dovremmo concentrarci tutti sul tentativo di porre fine, terminare un pericolo per l'umanità, oppure prolungarlo fino alla sconfitta di Mosca, fino alla defenestrazione di Putin, fino al colpo di Stato al Cremlino per buttare giù dal potere Putin, posto che ciò accada. Io non lo so onestamente, non lo so. Dalla Meloni o comunque dai politici, io veramente mi aspetto qualcosa di diverso, qualcosa di diverso. È ancora il momento in cui c'è ancora un po' di margini manovra, sempre, io poi cito sempre dichiarazioni. Riandatevi a leggere per favore le dichiarazioni della Merkel di qualche giorno fa. Dichiarazioni effettuate durante un convegno, un'iniziativa dell'Helmut Kohl, fondazione Helmut Kohl. La Merkel, che ci capisce di politica, che conosce Putin, che conosce la Russia e che conosce anche gli americani, venne intercettata tra il 2012 e il 2014, in un momento in cui era stato appena completato e messo in funzione il Nord Stream 1 e russi e tedeschi stavano pensando alla costruzione del Nord Stream 2 per interessi utili reciprocamente. Costruzione del Nord Stream 2, che poi è stata completata, ma il gasdotto non è stato, non è entrato in funzione, di fatto, perché gli americani hanno detto no e la Merkel era una fase uscente, stava uscendo dal potere. Evidentemente Scholz non ha la stessa caratura politica, lo stesso coraggio e stesse qualità che aveva la Merkel. La Merkel ha detto, prendete sul serio Putin, prendere sul serio Putin non è un sinonimo di debolezza, ma di saggezza politica. Non di debolezza, ma di saggezza politica per costruire ancora margini di manovra o di ottenerne di nuovi. Come dire, cerchiamo di capire qual è la situazione reale, stessa cosa che sostiene il Papa, per capire che è ancora possibile avere dei margini di manovra, ovvero tentare di costruire un negoziato come Unione Europea, senza delegare la possibilità di costruirlo, di fare da mediatore soltanto Erdogan, il quale in un certo senso anche egli da questa guerra ci guadagna. Destabilizzazione Europa, quindi indebolimento dell'Europa, crescita e rafforzamento della sua figura anche in determinati mondi e in pezzi di mondi, mano libera contro i poveri curdi, vendita di armi, Erdogan vende armi a destra e a manca, producono moltissime armi e le vendono, controllo di determinati territori, aumento della potenza, della forza di controllo del Mar Nero. È l'Europa ancora una volta che continua a suicidarsi e leggo, ripeto, soltanto dichiarazione dei politici europei che si scandalizzano e basta senza darci una minima opzione per uscirne. Ripeto, dal 26 giugno non vi erano dei raid su Kiev, li condanniamo? Sì, ora che li abbiamo condannati cosa stiamo risolvendo? Missili, drone utilizzati, Zelensky attaccati con decine di missili state nei rifugi, l'escalation, lo stesso Zelensky che qualche giorno fa. Io pensavo, dopo aver ottenuto l'autorizzazione degli americani, oggi inizio ad avere qualche dubbio, ha firmato il decreto che impedisce all'Ucraina di trattare la pace, di ottenere, di negoziare fino a che c'è Putin al potere. Forse una parte del potere americano non è più d'accordo con certe cose che sta facendo Zelensky, tant'è che alcuni messaggi, anche tramite giornali importanti, magari imbeccati ai servizi segreti americani iniziano ad arrivare, no? Le informazioni che ci sono i servizi di Kiev dietro al danneggiamento del ponte in Crimea, che ci sono i servizi di Kiev dietro l'omicidio dell'assassino della Dughina. Sono tutti dei messaggi che forse una parte di potere di establishment americano sta lanciando a Kiev per dire, occhio che non copriamo fino alla fine, abbiamo coperto fino a oggi, ma non copriamo fino alla fine, non possiamo accettare un rischio addirittura nucleare che mette in pericolo l'umanità, sempre per citare il Papa, per Zelensky, perché poi sono cinici gli americani, no? Una volta ottenuto l'obiettivo geopolitico strategico, la separazione tra Europa e Russia, voi pensate veramente che siano così interessati ai diritti umani? Allora perché non intervengono in Palestina, non dicono parole sull'apartheid israeliano in Palestina, accettano violazioni ai diritti umani in mezzo al mondo, hanno compiuto guerre d'invasione mascherate a missioni di pace che hanno causato decine di migliaia, centinaia di migliaia di morti tra i civili, violenze inaudite. È geopolitica, è strategia militare, è strategia economica, finanziaria, che nulla a che vedere con l'etica, ma è l'Europa che ha ancora uno spazio di manovra e se la Merkel parla di uno spazio di manovra, credo che ancora oggi sia possibile incaricare lei come possibile mediatrice. Questo dovrebbe fare la Meloni, questo dovrebbero fare i nuovi, i nuovi, i presidenti del Consiglio dei Premieri europei, incaricare oggi, cosa che io suggerì mesi e mesi fa, la Merkel, darle, affidarle l'incarico di mediazione, di mediatore in nome dell'Unione europea. Questo deve fare l'Europa, lo deve fare oggi e c'è la possibilità di uscirne. Addirittura Elon Musk ha suggerito una via di uscita giusta, sbagliata, non lo so, ma è un tentativo per uscire da questo inferno prima che sia troppo tardi, io lo dico da mesi, disponibili, disponibili. Questo deve dire l'Europa, disponibile al riconoscimento della Crimea russa, perché piaccia o non piaccia, ci sono i Tatar in Crimea ma la maggior parte sono cittadini russi che si sentono russi e vogliono vivere sotto la federazione russa, piaccia o non piaccia, come in Kosovo e all'epoca vennero ascoltati, addirittura venne bombardato Belgrado dalla Nato, vi erano e vi sono cittadini che un tempo erano serbi ma non si sentivano serbi, si sentivano albanesi. Disponibili, questo deve dire l'Europa, disponibili al riconoscimento della Crimea russa, questo Putin se la prende questa dichiarazione, se la rivende alla grande con la pubblica opinione russa, che ci importa dell'orgoglio? Ci rendiamo conto che invece tutta un'altra serie di dichiarazioni, l'Ucraina vincerà, la Russia verrà sconfitta, Putin se ne dovrà andare, il decreto firmato da Zelensky, questo viene utilizzato dalla propaganda russa in patria. Io quando ero in Russia vedevo sulle televisioni di Stato dichiarazioni folli dei politici europei mandati H24, proprio utilizzate come arma propagandistica, guardate, vogliono la nostra sconfitta, vogliono la sconfitta russa, vi è russofobia, ci detestano, ci vogliono distruggere la nostra cultura, ci vogliono imporre determinati governi, guardate, dobbiamo ribellarci, questa è la propaganda, così viene utilizzata e allora dire disponibile al riconoscimento della Crimea russa è un modo per aprire un tavolo di trattativa, in cambio ovviamente dell'immediato cessate il fuoco, perché dobbiamo ottenere il cessate il fuoco o la sconfitta militare della Russia ed una soluzione diplomatica magari appunto da trovare con una grande conferenza di pace ad Assisi, coinvolgendo il Papa, la Merkel appunto come mediatore, eccetera eccetera, e trovare una soluzione che va trovata sul Donbass, perché quando finirà quest'inferno, se finirà e quando finirà non sappiamo quando, il problema resta, un problema da risolvere politicamente, ripeto, la presenza in Donbass di centinaia migliaia, diciamo milioni che molti poi sono fuggiti, di cittadini di nazionalità ucraina che non si sentono ucraini ma si sentono russi e questo è un problema che resta e che andava affrontato adeguatamente e non è stato affrontato, oggi che c'è il rischio, diciamo, della fine dell'umanità, un pericolo per l'umanità evidente, vogliamo lavorare in questa direzione, c'è qualcuno capace in Europa, c'è qualche politico, la Meloni, capace di pronunciare parole un minimo di stensive dopo tutti i comunicati di condanna del raid, dell'invasione russa, per l'amor di Dio, ma mi dite quando vi è mai stata una guerra che non è iniziata con qualcuno che ha attaccato per primo, che ha invaso per primo, che ha lanciato un primo missile, una prima bomba, che ha effettuato un bombardamento, me ne dite una, ogni guerra inizia con qualcuno che attacca per primo, poi generalmente se vince giustifica, se poi perde non viene giustificato, generalmente è così, la storia la fanno i vincitori, ma non ce ne frega niente di questo, ma dopo aver detto l'Ucraina è stata invasa e Putin è invaso, vogliamo andare oltre o vogliamo continuare per i prossimi otto mesi soltanto a dire questo? I giornalisti di questi giornali con l'elmetto, i giornalisti con l'elmetto, vogliono andare oltre o si vogliono soltanto concentrare sulla condanna? Benissimo, una volta che abbiamo condannato possiamo tentare di costruire, di lottare per la pace, lottare per la pace, secondo me l'Europa oggi, che il rischio escalation, anzi neanche più il rischio escalation, che l'escalation già è in atto e c'è chi lo dice da otto mesi, è stato infamato, infangato, filo putiniano, filo russo, vuoi la vittoria della Russia? Il contrario, voglio la pace, voglio la pace e non si ottiene cercando la vittoria dell'Ucraina, ovvero la sconfitta militare della Russia, perché prima di perdere la Russia, temo che possa aumentare l'escalation e prima di perdere l'Ucraina, giustamente, aumenterà l'escalation. Questa è la guerra, non vi stupite delle bombe, dei massacri, delle fosse comune, ditemi una guerra che non sia stata caratterizzata da violazioni dei diritti umani, da morti tra i civili, da rifugiati, da distruzioni, da devastazioni, ditemene una, una guerra, ma davvero c'è qualcuno che pensa che le armi che stiamo inviando a Kiev colpiscano esclusivamente i militari russi? C'è gli uomini russi in divisa? C'è qualcuno che davvero pensa che non siano state utilizzate anche per colpire civili, postazioni civili, infrastrutture civili in Donbass? Che non ci siano stati dei morti in Donbass civili a causa delle armi che stiamo inviando a Kiev? Io non lo so, ma in che mondo vivete? In che mondo vivete? Basta fare i tifosi, basta sentirsi in guerra, anche se lo siamo, tifare per la vittoria di qualcuno, basta! Occorre lottare per la pace e l'Europa è ancora in tempo per far qualcosa, per utilizzare quegli spazi di manovra di cui parla la Merkel, e proprio la Merkel dovrebbe essere incaricata oggi per portare avanti un tentativo difficile, sempre più difficile, perché otto mesi fa sarebbe stato più facile, di mediazione, con un tentativo appunto concreto, con delle proposte concrete che prima evidentemente le parti in causa rifiuteranno, ma poi chi lo sa? D'altro canto questo significa mediare, sì, potremmo trovare, arrivare al risultato prima che sia troppo tardi, prima che vi siano nuovi morti, nuove devastazioni e anche una recessione totale, perché gli effetti della recessione che arriveranno ai prossimi mesi ancora non li abbiamo visti, i primi effetti delle bollette della crisi economica e sociale li stiamo vedendo oggi, ma ancora è nulla, è nulla rispetto a quel che avverrà, è nulla rispetto a quel che succederà nei prossimi mesi, occorre lottare per la pace, questa è una frase che tutti quanti i leader europei dovrebbero pronunciare, lottiamo per la pace, ditemi un politico europeo importante, un presidente del Consiglio, un Premier, che oggi ha il coraggio di dire occorre lottare per la pace, nulla, la risposta è mandiamo più armi fino alla sconfitta della Russia perché l'Ucraina trionferà, benissimo, veramente complimenti, almeno noi, dato che la pubblica opinione oggi in gran parte, non totalmente, ma in gran parte è distante dalle politiche e dalle scelte folli delle classi dirigenti e dei politici europei, almeno noi tentiamo giorno dopo giorno, in ogni modo, parlando, facendo manifestazioni, insistendo, facendo un minimo di pressione anche sul nuovo governo, cerchiamo di lottare per la pace, grazie a tutti e condividete.